musica 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 bella ragazzi sono Daryl siamo i Grananas e siamo tornati con un nuovo gameplay e qua c'è anche Xenic però non si vede perchè è fuoricampo si è sentito rotto perchè non c'entrano tutte e due sa facecam quindi uno deve sta fuori quindi quello che abbiamo deciso è quando facciamo quei cosi con la facecam in 2 porca troia sto per morire uno gioca e l'altro sta fuoricampo insomma si io mi faccio i cazzi miei mi guardo un pornazzo comunque siamo su Stonehaven o Cristo siamo su Stonehaven e io mi sto concentrando quindi parla un po' io? si e vabbè tutto a posto come va la vita? bene quello sta per morire forse ok è morto ha preso sciacallo non voleva morire quello eh vabbè sei un po' così rompi un po' il cazzo prende C no non la prende si invece la prende no no perché ci stanno quelli eccolo si si lo sento lo sento lo sente forco cane non posso muovermi carcola perché? perché c'è uno davanti e uno sta dentro la casa e uno dietro sicuramente ti spunterà perché il tuo amico è morto eccolo il tuo amico è morto scusate non sto camperando da dietro occhio ma quanto mi tagliavo se ti giravi la visuale e ti ammazzava quello dalla casa forco cane oh io lo sapevo lo sapevo è così fortigianale sono stato tre ore di film lì mamma mia che bombe ragazzi vabbè quel pezzo si taglia ahahah porco due lo stanno arando vabbè ma non lo esageriamo hai radio 2 ahahah ma cazzo vai cielo ahahah ma prestaci il cuore non me lo faccio male oh 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 ancora mamma mia Daryl caricatura mentale no Daryl Daryl qua c'è 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 Daryl dai con qui c'è C non vedi che stanno tutti qua sti cazzi eccolo che è arrivato dietro guarda no guarda no guarda no guarda eh oh mamma mia ma che cazzo era mamma mia ragazzi vediamo la keycam non è un quick si è un quick è un gran quick complimenti mamma mia degno del miglior Xenic bravo si è il miglior Xenic del miglior certo ma quale il miglior del pezzo no 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 nel senso del miglior quando io sono migliori nei miei quick vabbè basta 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 comunque visto che sei fuori campo racconta cosa stai facendo niente sto giocando con la pennetta ah sto chiudendo prendo una pennetta oh oh cazzo ahahah che è? niente dai ma che cosa è come muore ma che cosa era? tanto si vedi là ahahah che bello il gameplay ahahah ahahah vabbè eeeh io non so cosa fare quindi mi avvicino mi avvicino senza avvicinarmi senza farmi riprendere ora mi porterò sfiga da solo non dirò per quale motivo prenderò il mio materiale oh ok e mi riallontano oh merda io sono concentratissimo ho toccato qualcosa e se vede cioè guarda qui su sta merda mica l'avevo visto ho un fame a pezzo di merda c'è popo popo che te rompo il culo eccolo eccolo di nuovo a camperare mamma pezzo di merda o stai stai oh no oh oh ma che cazzo fai ti sparano e salti tu stava cazzo il cane stanno culando una madonna 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 buh lezzi madonna madonna il veleno agghiacciammi no basta perchè sennò prenderemo un'altra disiscrizione da juventini questo merdone oh ah i wanna know ma perché cantiamo sempre sta canzone non lo so infatti dopo un po' stufa orca troia fermo fammela andare via da qua oh c'è il juggernaut si il saura è sparato occhio che c'è pure il drone del paraguro aiuto aiuto no no fammela andare aiuto aiuto oddio vabbè ma guarda che se lo prendi da dietro della coltelli lo ammazzi eh cioè guarda come via su di me eh sto pezzo se ora tu lo prendi da dietro della coltelli lo accoltelli ma che sei down ma lo devi accoltellare no no piano piano lo ammazzi ma che piano piano lo ammazzi un mondo mi oltre sento la p która mamma mia tari non avinizia mamma mia che sobra September uccini avversari in totale ogni edizione davvero non iernico cazzo vai di qua oddio mi hanno tirato la bomba è la bomba che scoppia in boh mamma mia questo c'era il cecchino se ti piace qui che ti ammazzava come una bomba no madre di dio oooh vabbè però hai rotto il cazzo ma ci stanno pure i compagnieri di squadra si accaniscono contro daryl madre di dios madre mia madonna eh si madonna incredibile guardate come punta charlie gli vuole sparare ma il jack è stato morto oddio c'è quello ha fatto una fine bruttissima mi sono visto morire davanti oh cristo vabbè io stavo ridendo quell'arco mamma mia quello madonna madonna oh che cazzo è aiuto oddio moro moro io anche sto guardando muoio nel tuo curo muoio oh cristo oh lei madonna basta dai adesso ci fa una bella cosa alessio ora farai una bella cosa adesso tutti madonna giro due per terra ma che cazzo sto dire concentro te che è meglio è che tu non parli se non me concentro va bene è capito non so si ma guarda era molto concreta quella frase come può una frase essere concreta ancora muori lo sai vero madonna madonna sto lezzo col cecchino arriva è arrivata non c'è aspetta no no dai oh madonna ecca la cia ciao amico mio è stato bello oh cazzo ho tentato di mandarli dei fottuti cerchietti perfumano prof. mi sta all'oro sto bombastico vabbè siamo a metà cara comunque ragazzi questi sopporti e parte tutto madonna mi chiedi fai cazzare balla la libbia oh 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 mi sono giocchietti 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 non riesco più a fare una kill c'è eh eh chi sta facendo ancora mi è entrato il fumo mi è entrato ancora vediamo ora d'aril si concentra dovrebbe andare su alfa tu dovresti andare a fanco oddio ma che cazzo fa che spari i compagni sei zitto eccolo eccolo lo vede lo sei giocchietti c'è il cecchino che mi secca 3 2 1 no come fa a seccarti con un muro davanti sei zitto problem ma torna zitto lezzo eccoli oh quello ammazzano c'è il tempismo perfetto degli avversari morto no non è morto ci sono oh cazzo fa oh 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 vabbè mi sono un po' brutto e cazzo ma che cazzo di gameplay madre madonna sto in play si chiama madonna madonna eccolo madonna ma porco canio vabbè non è che ho sempre portato a cam cioè non sei talmente bravo mi hai portato una volta c'è un po' brutto sempre l'hai fatta anche una volta ci manca soltanto il pezzo di madonna oh ok loki mamma mia perché io non ti non fai del mare perché io non ti non fai del mare questo gioco gioco di merda merda no 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 mi aspettavo di merda guarda il loki mi ha puntato oh eccolo stai per morire tra 3 2 1 oh che cosa è successo ho pure il griffon c'è il mondo addosso a me 7 miliardi di persone tutte su di me salta e spana occhio oddio lo sta là sta là sta là io c'ho a luci davanti non c'è il mio cazzo no no non c'è sta più non c'è sta più non c'è sta più eccolo eccolo non c'è sta più lo prende da dire tu frega su sto gioco le cuffie sono troppo importanti infatti oh hai rotto il cazzo cioè sono appena rinato mo mi ti fa nasce un po' mi ti fa vive bello mi ti fa vive cioè stai nel tuo proprio beh stai nel tuo espressione perfetta be in yours cioè dai eh già don't expand yourself come si dice a Roma non t'allargarà ancora vive madonna madonna il jackernouth questo muo passa qua dentro accoltellalo 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 appena esci accoltellalo fermo che ce l'ho tutto addosso cristo dio ora esci accoltellalo accoltellalo ma che porno no ti minacchetto uuuu cazzotti ma lo vuoi accoltellare ancora lì gli spagano vaffanculo 22 19 benissimo ci hanno fatto il culo quello ha fatto 42 6 benissimo comunque guardate che schiera di roba che c'hanno contro cioè mi fa bene capire io stavo con uno che stava a livello 59 comunque ci vediamo alla prossima e saluto bello e benedamici ciao 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 Grazie a tutti